Buonasera a tutti, grazie per essere presenti così numerosi. Questa sera presentiamo la nostra lista, il nostro progetto di lista, lista unica. E per iniziare io passo subito la parola a Mario Perri. Buonasera a tutti, siamo qui per iniziare a parlare con calma, serenamente, ma con forza del progetto politico Lista Unica. Si è parlato in Paese, a Patrona Notizia, è da mesi che noi abbiamo presentato questo progetto insieme con Gigi. Noi ricordiamo bene con Gigi di esserci attaccati due anni fa, ricordiamo anche come ci siamo chiamati vicendevolmente. Non c'è bisogno che nessuno ce lo ricordi nella campagna elettorale. Quindi togliamo subito questa cosa. Questo giochetto lo togliamo. Perché deve essere chiaro che il nostro è un progetto politico nuovo e innovativo. Noi, trovandoci in minoranza insieme con Gigi, abbiamo iniziato a collaborare. Tra l'altro, tra i nostri due programmi, quando li abbiamo presentati, pur essendo nemici, c'erano tutta una serie di punti programmatici simili, uguali. Sembrava che ci fossimo copiati. Forse ci volevamo bene già da allora. Noi ci siamo trovati insieme in minoranza, abbiamo fatto minoranza insieme, abbiamo collaborato in quest'Aula. Noi abbiamo cercato di evitare lo scioglimento del Consiglio. A dicembre io ho preso posizione chiara in questa sala contro lo scioglimento del Consiglio. In quel momento Gigi non era d'accordo con me. Dopo alcuni giorni ci siamo incontrati e abbiamo parlato e da allora abbiamo iniziato in Consiglio un'azione per cercare di non far commissariare il Comune, che è stato un danno gravissimo. Che noi due non volevamo. Lo volevano tutti quelli che oggi sono o presenti o dietro una determinata lista. Questi sono nemici di regolatura. Incominciamo a dire qualche cosa di pepato, lo dobbiamo pure dire, non è che noi stiamo a fare la bontà, a offrire fiori, noi non offriamo fiori. Qua ci vogliono spine, ci vogliono cartoni, ci vuole forza. La politica è in maschia. Le donne che sono presenti nella nostra lista me lo devono consentire questo. La politica è qualche cosa che ti prende. Devi avere dentro le idee, le devi difendere queste idee. La presentazione della lista non è l'8 marzo, la festa della donna, i fiori. Potevamo, li avevamo 20 o 30 euro per mandare un mazzo di fiori da noi stessi a noi stessi. Ma, scusate, ho gli auguri. Il nostro candidato a sindaco, senza consultarsi con nessuno, non ha ritenuto di fare gli auguri agli altri per una campagna elettorale, una bella campagna elettorale di pace. Noi abbiamo fatto la presentazione della lista, le candidature le abbiamo fatte con grande rispetto di tutti. Non siamo andati a proporre candidature apparenti dei candidati di altre liste. Non abbiamo cercato di marcare i candidati delle altre liste. Non abbiamo ricattato nessuno. I nostri candidati hanno pagato 1.500 euro a testa per un ricorso al TAR. Andrea Gerra, l'ultimo candidato che è entrato nella lista, e si vede anche da come è composta la lista, per un errore nella scrittura della data di nascita. Errore commesso da me, da tua letta. E Simone e Maruca hanno fatto ricorso al TAR. Magari poteva essere risolto questo fatto se stranamente il comune che per obbligo di legge doveva essere aperto quel pomeriggio fosse stato aperto. Ma lasciamo perdere. Possiamo dire che i nostri candidati non sono stati ricattati, non sono stati convocati, non sono stati convocati per grazia ricevuta o per promesse fatte, ma ci hanno tenuto tanto da volere essere presenti nella lista. Così come ci ha tenuto tanto ad essere presenti nella nostra lista, Angela Cicconti, dirigente nazionale di un movimento che ha voluto essere presente con noi nella nostra lista. noi siamo orgogliosi del fatto che una persona di regolatura che abita fuori e che tiene tanto al suo paese sia anche dirigente nazionale di un movimento. e per questo abbiamo accolto con piacere e da ringraziamo di essere anche presenti questa sera qua. Ma tornando ai fatti, noi abbiamo lanciato questo progetto politico, abbiamo parlato con tutti, abbiamo cercato incontri con tutti. a tutti, noi abbiamo detto che eravamo disponibili a fare un passo indietro sia io sia a Gigi. non c'è stata, non c'è stata, non si è capita l'importanza di creare un'amministrazione con una larga maggioranza, non si è capita l'importanza di innovare la vita politica di regolatura, non si è capita l'importanza di pacificare l'ambiente. noi abbiamo scelto il simbolo, lista unica e la colomba della pace. noi eravamo e siamo per la pace, però secondo il detto latino, chi ama la pace deve preparare anche la guerra. noi, questa pace, le nostre idee, le difendiamo e le difendiamo perché ci crediamo molto e le difendiamo con forza. Nel corso della campagna elettorale non faremo attacchi gratuiti a nessuno, non faremo attacchi gratuiti a nessuno, anche se ne abbiamo già subito e già, ne abbiamo sentito già abbastanza. Non faremo attacchi gratuiti a nessuno, però non permetteremo a nessuno di fare una campagna elettorale sporca. Le fotografie dei voti o i voti segnati, chi ha queste abitudini deve toglierselo questa volta, che non glielo permetteremo. Questo deve essere chiaro. Noi siamo pacifici, siamo buoni, siamo tranquilli, però non siamo in un altro modo. Allora, avevamo fatto la proposta di Ezio Bonacci, che ringrazio di essere qua presente, a sindaco come persona al di sopra delle parti. Questa proposta l'abbiamo fatta al PD, partito con il quale siamo contenti di aver intrapreso anche un discorso di dialogo democratico. Noi siamo contenti di questo. ieri sera noi siamo andati, siamo stati presenti nella manifestazione, di presentazione della lista, sia i Ercigi, per questo discorso importante del dialogo democratico tra i partiti. Non è passata questa proposta. Non siamo riusciti a fare un accordo, perché i tempi non erano maturi. dopo tanti e tanti anni di lotta, non è che ti puoi mettere d'accordo in un minuto. Oppure, perché gli egizi non abbiamo avuto problemi a metterci d'accordo, perché forse abbiamo una capacità di dimenticare e di andare avanti. Altri sono meno lungimiranti e quindi non si è fatta questa cosa. Quindi, noi, come avevamo detto nel mese di ottobre, qualora abbiamo scritto che se nessuna altra forza avesse aderito al progetto, noi avremmo espresso una candidatura interna ai due movimenti. Gigi, fino all'ultimo momento, mi ha insistito perché il candidato fosse io, io ho ritenuto di aver già assolto il mio compito come sindaco, perché la gente di d'accordatura mi ha dato l'onore di elegermi tre volte e quindi ho già avuto tantissimo e ringrazio tutta la popolazione di d'accordatura per questo. Abbiamo scelto di fare una lista a larga maggioranza di giovani, giovani che hanno accolto con entusiasmo la proposta di essere candidati da lista e abbiamo deciso insieme che doveva essere candidato a Gigi. Un giovane che io ho apprezzato nel corso di questo anno di minoranze insieme e anche dopo. Gigi ha tutti i requisiti per essere un ottimo sindaco. Il primo ha avuto l'umiltà di dire purché riusciamo a fare un accordo per il bene del paese io sono pronto a rinunciare anche ad essere vice sindaco. Non solo era pronto per rinunciare alla candidatura a sindaco ma anche a quella di vice sindaco e Etio Bonacci ne ha il testimone quando abbiamo parlato di queste cose perché se proponevamo a Etio Bonacci sindaco e lo proponevamo ad esempio a UPD era normale che il vice sindaco fosse da UPD e Gigi accettava anche questo per amore del suo paese. Quindi è un atteggiamento questo di Gigi ben diverso da chi ha detto o sono sindaco io o nessuno. Ad ora chi non ha d'umiltà chi non ha da voglia di apprendere chi non ha da voglia di ascoltare le persone non ha i requisiti per essere un buon sindaco. Io dico non ha i requisiti per fare il sindaco. Il sindaco di regolatura può andare a fare il sindaco di Milano dove il sindaco di Milano non parla con i cittadini non ha un dialogo con i cittadini non lo vanno a chiamare a casa i cittadini. Gigi ha un altro requisito lo dicevamo prima parlando con il giornalista della televisione che ringraziamo che sta facendo questo servizio parte codatura per tutte le liste dicevano io da sigla Mario Perri e lui è Gigi De Grati non siamo dottor professor Francesco Cossiga disse una volta in televisione io sono Mario Perri per tutti sono stato sindaco e sono stato Mario Perri ed ecco perché Gigi ha anche quest'altro requisito ha l'onestà l'onestà importante ha dei valori umani è una persona che può fare per bene il sindaco io ho accettato perché io non dovevo essere candidato mia figlia aveva già firmato la candidatura per consigliere in questa liste però è venuta fuori l'esigenza di inserire anche la mia modesta esperienza quindi ho sacrificato la candidatura di mia figlia che ci teneva tanto ad essere candidata insieme con questi giovani anche per amicizia con questi giovani e io ho accettato di mettermi in gioco di candidarmi da semplice consigliere non ho avuto la spoggia di dire o cesare o nessuno mi sono candidato da semplice consigliere e sono qua a fare il gregario di Gigi ma io sto facendo sto cercando di restituire al popolo di decodatura a questo paese sto cercando di restituire l'affetto che ho avuto quando mi hanno eletto sindaco io ho cercato di creare questo nuovo progetto politico in parte ci siamo riusciti e in parte non ci siamo riusciti io sono qui solo per questo non sono perché mi interessano le cariche in questo momento e ho deciso di partecipare di essere presente sono qui abbiamo selezionato i candidati lo ripeto mi sto ripetendo non è che ho perso il pivo ma lo voglio ripetere lo ripeterò in tutta questa campagna elettorale i nostri sono candidati non sono convocati non è da nazionale di Conte e quando era il denatore da nazionale di Conte come si chiama il denatore adesso Mancini io non seguo molto in calcio Mancini dai convocati tu vieni qua e candidati noi questo non l'abbiamo fatto con nessuno tra l'altro non potevamo promettere posti non potevamo promettere niente perché non abbiamo niente noi da promettere noi non abbiamo fatto di queste promesse di essere candidati noi non abbiamo sponsor non abbiamo associazioni che sostengono a noi apertamente siamo solo noi Gigi ha messo come canzone oggi voglio una vita spericolata io aggiungo metteremo anche la canzone siamo solo noi questi siamo e questi siamo le persone siamo persone oneste persone che vogliamo bene al paese e vogliamo fare delle cose le abbiamo scritte chiaramente non abbiamo fatto un temuccio un temuccio ci sarà anche qualche errore eh di battitura o qualche errore magari pure di grammatica ma non è un programma sconnesso e sgrammaticato come quello che ho detto recentemente questo deve essere chiaro perché chi ha redatto quel programma se scrive in quel modo il programma pensa in quel modo e amministrerà allo stesso modo qualora dove si dice questo deve essere chiaro allora noi il nostro programma prevede delle azioni immediate perché quel programma lì sconnesso di una lista della quale non faccio né un nome né un cognome quel programma è il programma che noi è un programma che noi realizzeremo in 5 giorni non è vero che a decodatura c'è un'emergenza delle affazzature c'è soltanto un problema di riorganizzazione delle affazzature riorganizzazione dei servizi noi qualora dovessimo vincere è scritto al quarto punto del programma se lo leggete io ho difficoltà cosa vista l'età discontinuità gestionale con attribuzione nell'immediato della responsabilità dei servizi al sindaco e al vice sindaco il risparmio anno di 12.000 euro sarà destinato al finanziamento delle quattro feste patronali questo punto noi lo abbiamo inserito non per fare rispetto a nessuno perché noi non siamo contro nessuno ma lo abbiamo inserito perché se non si crea una discontinuità gestionale il giorno dopo delle elezioni si continuerà ad avere gli stessi problemi che ci sono oggi deve essere chiaro questo noi lo abbiamo inserito perché e aggiungo solo noi abbiamo questa volontà di questa discontinuità gestionale solo noi siamo solo noi deve essere chiaro questo lo abbiamo detto e lo faremo perché abbiamo la capacità e abbiamo la forza di farlo abbiamo la capacità tecnica beh magari a qualcuno non gli piacciono i miei capelli non gli piacciono i tatuaggi di Gigi ma deve essere chiaro che nessuno può negare in questo paese che Gigi ha certe capacità per quanto riguarda l'organizzazione di eventi e di altre cose e nessuno può negare che io sono un po' l'avvocata Zecca Garbugli per quanto riguarda la gestione amministrativa perché non ho niente da imparare da nessuno e quindi anche gli avversari ai quali non piacciono i miei capelli possono lo ammettono questo questo deve essere chiaro queste cose devono essere chiaro quindi noi faremo delle cose nell'immediato io vi dico le cose che faremo nell'immediato metteremo in mora immediatamente nella regione per quanto riguarda la pratica di uscita dal consorzio di bonifica è una cosa che interessa tutti i decodatoressi questa qua noi la faremo è una battaglia che è stata forzata avanti da un comitato il presidente del comitato era Ezio Bonacci Mario Vescio era un altro di questo comitato è una cosa che faremo subito aderiremo immediatamente di nuovo al gruppo di azione locale per permettere ai decodatoressi di accedere a finanziamenti il commissario stranamente con il lavallo della dirigenza del comune hanno revocato l'adesione al Gall ci è un mare di finanziamenti per l'agricoltura per il turismo per l'artigianato che passano attraverso il Gall e i decodatoressi non ne possono beneficiare noi al primo consiglio di insediamento perché non è che vi è dato la legge mettere dei punti metteremo questa delibera tanto per essere chiari i tempi immediati cancederemo l'addizionale IRTEF perché l'operazione dell'addizionale IRTEF che cosa ha comportato un incoito di 50.000 euro annui e ha comportato la perdita di circa 300 persone che si sono cancellate dalle demagrafe perché uno che era residente a decodatura dove non pagava l'addizionale IRTEF e magari abitava a Damesia oggi pagando l'addizionale IRTEF a decodatura o a Damesia se ne è andato a Damesia quindi il mancato incoito per il contributo dello Stato è superiore a quello dell'addizionale IRTEF la discontinuità gestionale l'ho detta c'è un problema dell'affidamento dell'anta devotiva dove hanno fatto un affidamento indegittimo dove il comune perde 15.000 euro l'anno riapriremo immediatamente il giorno successivo lo stesso giorno dell'insediamento il campetto del Foro Poario questo è un dispetto fatto ai ragazzi di decodatura c'è un campetto e non ci possono giocare faremo altre cose ma siccome mi sono dilungato voglio parlare di una sola cosa la chiusura del rapporto delle società di riscossione noi qua abbiamo avuto affidate a una società di Bondovì il recupero noi ricreeremo riorganizzeremo un ufficio tributi per riscuotere direttamente queste cose c'è un problema finanziario del comune tutti parlano di questo problema finanziario del comune si usa dire che cosa tratta capo A anni fa è stata tratta una stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che oggi sono diventati dipendenti comunali sono dipendenti comunali da diversi anni questa stabilizzazione non c'era la copertura finanziaria e ha portato ad assiduosio di 300 mila euro di disavanzo l'anno scorso quest'anno sarà in disavanzo pure bisogna risolverlo però questo problema se queste persone oggi sono dipendenti di regolatura noi non possiamo pensare che andiamo ad amministrare il comune per mandare via la nostra gente in comuni lontani o metterli in mobilità perché questi perdono il posto non mi interessa non ci interessa chi ha fatto la stabilizzazione non ci interessa dove hanno votato due anni fa queste persone non ci interessano questi discorsi ci interessa che i lavoratori che sono in decolatura devono mantenere il posto a decolatura così come noi non sopporteremo l'affidamento ancora in prorogazio dello Sprar noi faremo la gara però non abbiamo niente contro le persone che lavorano nello Sprar deve essere chiaro che non abbiamo niente contro queste persone noi queste persone applicheremo la causa la clausola di salvaguardia prevista dai contratti di lavoro e quindi anche facendo un regolare appalto queste persone non perderanno il lavoro perché saranno privilegiate le hanno segnalate altre hanno avuto altri voti a noi non ci interessa sono i cittadini di decolatura nel momento in cui noi dovessimo diventare amministratori del comune di decolatura noi dobbiamo essere gli amministratori del comune non saremo gli amministratori di una parte del comune tornando alla situazione finanziaria del comune è chiaro che se c'è un terreno ad adami che è stato stimato del valore di 300.000 euro dall'amministrazione Cardamone e dall'architetto quello di Lamezia che dirigeva l'ufficio tecnico questo terreno non può essere tenuto gratuitamente da una società da una cooperativa o paga il fitto o questo terreno viene riacquisito questo terreno deve essere riacquisito deve essere venduto e si recuperano i soldi ci sono dei beni comunali che l'amministrazione Cardamone aveva messo in vendita questi beni vanno venduti e vanno venduti con il sistema semplice inventato recentemente del rischio affitto affitto al rischio siccome il comune non è che gli servono tutti i soldi immediatamente ma gli servono nel corso dell'anno può fare questa rilasione di pagamento in 5 anni in 10 anni con un regolare bando quindi i soldi il comune la situazione finanziaria del comune non è così drammatica come viene descritta il comune di regolatura ha beni ed ha possibilità di risolversi facilmente solo che la storia dei debiti la storia di che cosa sono i residui passivi di che cosa sono i residui attivi bisogna capirlo bisogna capirci un po' di contabilità quando ne parlano persone che hanno dimostrato di essere completamente ignoranti in materia ignoranti in materia e c'è lo che fanno confusione e impauriscono la gente impauriscono la gente la gente preoccupata io sono tranquillo che noi possiamo amministrare il comune tranquillamente noi potremo fare una serie di eventi noi potremo promuovere il territorio di questo comune noi potremo fare diventare decodatura di nuovo grande e lo possiamo fare attraverso eventi noi teniamo a questo territorio voglio sottolineare che la nostra lista è l'unica che dice chiaramente che noi non faremo istradare né paleolite né essenziale a biomassa noi lo diciamo gli altri anche quelli che dicono di essere un po' di sinistra però poi sai come diceva Giorgio Gabber si candidano a testa quelli non lo dicono questa cosa noi non dovremo prendere qualche cosa dà decisione in materia di paleoliche o di biomassa il sindaco non ha bisogno di regali il resto dell'amministrazione non ha bisogno di regali noi quindi lo diciamo questo perché loro non lo dicono perché non lo scrivono perché noi certe cose le stiamo dicendo noi siamo l'unica lista che parla di queste cose per quanto riguarda il programma io non mi dilungo non mi dilungo spero di aver chiarito perché sono presente nella lista spero di aver chiarito perché andiamo d'accordo con Gigi spero di aver chiarito perché viene proposta questa lista di giovani con un allenatore in campo io non capisco molto di calcio però io sono come quei vecchi calciatori che ancora riescono a tirare qualche calcio e quindi ogni tanto scende in campo la mia presenza attiva attiva dell'amministrazione sarà essenziale nei primi giorni e mano mano Gigi dovrà andare a scemare per i miei impegni che ho di dirigente di una confederazione nazionale sindacale per i miei impegni e per il bene del paese perché il futuro non può essere un ragazzaccio di 67 anni il futuro potete essere voi scusate se mi sono rivolto a Gigi ma un primario minor cessa quindi il futuro siete voi il futuro di decodatura io sono quello che vi dà una mano perché nel corso degli anni entrando come voi entrando come voi nella giunta e mi fa molto piacere che qui c'è Ezio Bonacci Ezio Bonacci era una delle persone che quando io sono entrato nell'amministrazione comunale mi ha guidato e mi ha fatto entrare quando si trattava di nominare il vice sindaco secondo me toccava a Ezio che era prima di me Ezio Bonacci ha fatto la scelta di dire l'ho fatto tu così come oggi ti ho insistito io a fare il sindaco Gigi tu devi essere il sindaco di questo paese perché hai requisiti perché hai una squadra di ragazzi e meno ragazzi e meno ragazzi capaci onesti e determinati tu sarai un buon sindaco e io sono orgoglioso di essere un gregario di un buon sindaco ho ricoperto tutti i ruoli di interno comune consigliere di maggioranza assessore vice sindaco consigliere di minoranza sindaco tre volte e adesso gregario e mi sta bene grazie a te grazie a te andiamo avanti e passiamo la parola ad Angela Ciconte tanto mi scuso volevo salutare facciamo un bel applauso anche a Giovanni Nero che per motivi di studio non è presente qui ma poi lancerò una lettera che ci ha mandato anche Angela bene buonasera a tutti io rappresento un simbolo all'interno della lista civica che è il popolo della famiglia e in qualità di dirigente nazionale e soprattutto di referente regionale perché sono per la Calabria la referente regionale del movimento ho voluto fortemente far parte appunto della lista di decollatura per rappresentare il paese in cui comunque sono cresciuta e il quale mi ha dato anche una figlia come in molti sapete ma in particolare per difendere tre ambiti ben settoriali che Gigi e Mario hanno condiviso a pieno quindi tutto voglio fare un attimino anche velocemente la storia di quello che è il mio simbolo all'interno della Calabria perché in due mesi in Calabria non esisteva il popolo della famiglia nel resto d'Italia sì in due mesi ho avuto proprio l'orgoglio ero candidata capolista al Senato di ottenere proprio grazie ai calabresi un ottimo risultato a livello nazionale perché a livello regionale abbiamo raggiunto quasi 6.000 voti a decollatura il 5% quindi è stato un ottimo risultato perché proprio i calabresi in particolare hanno capito in particolare quali sono i principi che noi ci teniamo a difendere nello specifico perché ho voluto con tutte le mie forze proprio candidarmi in decollatura perché voglio difendere prima di tutto insieme alla lista ovviamente tutti d'accordo l'ospedale di Soveria Mannelli ma perché questo perché proprio nel periodo in cui sono stata candidata qua mia madre molti di voi lo sanno si è ammalata è stata curata la Soveria ed è anche nata al cielo bene ieri quei due mesi dove ho fatto molti giorni vicino a mia mamma ho proprio visto come l'ospedale rispetto a come lo ricordavo quando ero piccola ha avuto un degrado come in questo ospedale veramente persone di altissima nobilità ananimo perché sono le persone che con le mani portano avanti l'ospedale quindi in particolare gli os che gli infermieri professionali scusatemi perché non ci sono os ho scoperto che c'è un ospedale qua dove portano avanti dei infermieri professionali senza l'aiuto di os quindi io ho sempre pensato che all'interno di decollatura voglio insieme ai miei amici di lista portare avanti questa difesa dell'ospedale di Soveria Mannelli poi un'altra cosa che ho fatto l'esperienza qua sempre in campagna elettorale ho scoperto che all'interno del comune di decollatura ci sono abusi di potere in molti lo sapete come allo stesso tempo ci sono persone con grandi capacità che saprebbero lavorare bene all'interno del comune ma per i capricci di una persona non faccio nomi i cittadini sono penalizzati ecco il motivo per cui ho deciso di entrare in questa lista e candidarmi è che quando saremo all'interno del comune noi questo scempio lo faremo finire perché i cittadini hanno il diritto di avere ciò che chiedono e chi lavora all'interno del comune ha il dovere di svolgere le proprie emozioni per cui è pagato il terzo motivo per cui ho chiesto veramente con forza di candidarmi è proprio perché vorrei aiutare insieme ai miei amici di lista a sviluppare il settore agricoltura attraverso finanziamenti attraverso anche degli sportelli dove le persone potranno rivolgersi e poi vorrei concludere con un appunto che voglio fare nei confronti di Gigi io e Gigi ho scoperto veramente che cosa significa essere coerenti nel senso che per coerenza lui non ha accettato la candidatura nazionale coerenza di essere amico con una persona quindi il rispetto il non tradire e lo stesso non tradire lo ha avuto in questa campagna elettorale dove aveva anche avuto possibilità di tradire Mario Terri magari uscendo da questo in muto in cui era dove poter essere giudicato per questo impasso che avevate in passato ma lui per correttezza ha tradito di nuovo quindi io sono felice di far parte di questa lista perché ha dimostrato etica ok allora adesso mostro la parola a Ezio Bonacci e lo ringrazio per essere qui presente questa sera era doveroso che io mi presentassi in questa sala era proprio una cosa importante perché fino a venerdì prima dell'attentazione delle liste c'è stato un certo discorso che si poteva concludere in un certo modo non è stato così e me ne dovo in parte perché è successo che un gruppo di giovani che ha avuto fiducia in me dall'inizio per questo progetto che hanno portato avanti Gigi e Mario mi è stato vicino fino all'ultimo pensando di poter risolvere la questione e quindi fare un passo un po' avanti per il comune perché in fondo qui non dovevamo portare a termine un discorso di laboratorio politico come qualcuno pensa invece come al solito decollatura è sempre all'avanguardia e siamo qui con quattro liste ditemi dopo il 10 giugno come potrà essere gestito un consiglio comunale con quattro liste è veramente qualcosa di eccezionale se voi pensate che negli altri comuni del circondario addirittura presentano un'unica lista che dovrebbe essere la lista vincente e la lista di minoranza poi dovrebbe essere quella di appoggio alla vincente noi invece a tutti i costi abbiamo voluto presentare quattro liste ditemi come è possibile veramente gestire la cosa pubblica in un comune di tre nemmeno di 3.000 anime in queste condizioni i problemi insistono ed esistono per tutti abbiamo una situazione pesante sia per quanto riguarda le strade comunali della spazzatura e tutto il resto abbiamo avuto uno stilicidio nell'ultimo anno ma veramente io non lo so perciò noi avevamo proposto una forza bene strutturata perché io ritengo che l'unico partito resistente a decollatura era il PD e infatti io ho detto io ci metto la faccia se veramente c'è l'accordo col PD abbiamo fatto di tutto credetemi e l'ha esposto Mario prima penso che lo accenderà anche Gigi dopo alla fine siamo andati ad incontri ci hanno promesso che era possibile all'inizio poi a un certo punto si olleggiava il venerdì sera la situazione è precipitata quindi giustamente i nostri giovani e dei quali io sono veramente orgogliosi perché è vero quello che diceva Mario Perre questa lista può essere può costituire il rilancio per il futuro perché non era tanto presentare una lista così tanto per presentare qua si trattava di mettere una persona e la mia modesta persona non lo so se poteva fare questo lavoro in tutta coscienza io vi dico che mi sentivo appoggiato da questi giovani per i quali potevo metterci la faccia però a un certo punto questa situazione è naufragata proprio perché alcune persone hanno ragionato sempre con l'ottica che bisogna fare di tutto per non dare niente a questa popolazione noi ripeto pensavamo che si potesse raggiungere un accordo col PD ed eravamo certi che in queste condizioni il comune probabilmente avrebbe avuto due massimo tre liste non quattro liste oggi la presentazione di quattro liste praticamente sfibra il consiglio comunale e quindi sono convinto che diventerà ingestibile di altro posso devo e proprio lo sento devo ringraziare questi giovani che mi hanno incensato continuamente e mi hanno onorato veramente perché io non pensavo di meritare tanta stima quando mi sono visto avvicinato da questi giovani i quali mi hanno veramente pregato di essere al fianco a loro io ho detto io la faccia e ce la metto solo a queste condizioni queste condizioni non si sono verificate e io a questo punto mi sono messo da parte però da parte non significa essere assente significa appoggiare questa lista perché ritengo che da questa lista può venire il futuro del comune di decollatura altre liste che pur hanno dei giovani validi io non metto in dubbio che nelle altre liste non ci siano dei giovani validi però con l'esperienza di qualcuno che è stato sindaco per certe volte e con le proprio con lo praticamente con l'appoggio suo e con l'impegno di questi giovani che sono sicuro sarà massimo perché daranno tutto sono sicuro che si potranno ottenere risultati abbastanza soddisfacenti per l'intera popolazione perché diciamo qua non è che uno pensa di vincere perché poi bisogna pensare alla gente soprattutto secondo me non è che possiamo dire a decollatura portiamo il mare noi dobbiamo partire dai piccoli problemi come diceva poco prima Mario Perri e pensare poi se è possibile anche di risolvere qualche grosso problema le condizioni certamente non sono ideali e l'unica cosa che voglio dire è che bisogna fare di tutto per non arrivare ad altri commissariamenti perché io credo che la gente è stanca troppo stanca tra i reti per poter parlare con il commissario bisognava annunciarsi poi il commissario ci faceva sapere e poi finalmente si riusciva a parlare non abbiamo risolto niente quindi è stato un periodo di vuoto assoluto per l'amministrazione comunale io mi auguro che questa situazione non si perpetui in futuro di altro voglio ringraziare soprattutto tutti i giovani che sono qua intorno a me e vi auguro un bocca al lupo per il prossimo futuro grazie bravo allora siccome non abbiamo potuto avere Aesio come sindaco e dopo avevamo veramente noi abbiamo previsto come punto programmatico l'istituzione della consulta degli ex sindaci assessori e consiglieri comunali e consiglieri comunali io propongo qua questa sera che qualora noi dovessimo vincere dobbiamo attribuire questa carica a una persona come Aesio che ha tutti i requisiti per ricoprire questo incarico la proposta della consulta degli ex amministratori comunali è finalizzata a recuperare l'esperienza di tutti perché questa amministrazione avrà bisogno del consiglio di tutti io sono stato uno solo comando e qualche cosa ho fatto un'amministrazione corale con il sostegno di tutti potrà fare tante cose abbiamo anche scritto che un statuto comunale sarà modificato in modo da prevedere che tutti coloro che hanno ricoperto la carica di sindaco venga conferita automaticamente da fine del proprio mandato la carica esclusivamente onorifica di sindaco e merito e che dalle veste su richiesta del sindaco in carico e in modo assolutamente gratuita possono svolgere consulenza partecipare a incontri e fornire pareri sull'attività amministrativa l'esperienza di chi è stato sindaco anche se non è della nostra parte politica o non vota per la nostra parte politica sarà fondamentale è un modo nuovo questo punto qua è coerente con il nostro progetto ed è un modo nuovo di rapportarci con le persone a decodatura la collaborazione di tutte sarà necessaria ma chi ha trascorso anni di vita in queste stanze potrà dare un contributo notevole e benvenga il contributo di tutti prima grazie grazie a tutti ok ci ritroviamo qua dopo due anni io prima cosa chiedo scusa per l'ultimo comizio tenuto sia a San Bernardo due anni fa è stato un poco spreggevole ho usato dei termini abbastanza brutti però poi l'esperienza insegna si matura e si capisce quindi chiedo scusa a chi ho attaccato quella sera e chiedo scusa alla comunità che ha assistito ad un comizio poco gradevole da parte di un gruppo di giovani detto questo io ci tengo a ringraziare Ezio ringraziare Mario tutti i candidati in particolare Antonio che è stato sin dall'inizio mesi fa a cercare di concepire questo progetto di lista unica che poi non è andato in porto a 360 gradi ma è andato in porto perché siamo riusciti a coalizzare varie forze politiche per il bene del paese ci tengo a precisare che questa tornata elettorale per decollatura è una sconfitta perché due anni fa la comunità decollaturese ha scelto di gran lunga da chi voleva essere amministrata quindi quando l'elettore sceglie chi si candida deve accettare noi abbiamo accettato ci siamo seduti in minoranza e la gente ha scelto di essere amministrata dall'amministrazione di Anna Maria Cardamone la politica funziona così chi vince ha l'onore e l'onere di amministrare per cinque anni chi perde ha l'onore e l'onere di fare minoranza di opporsi se ci sono ingiustizie e di essere vigili sulle ingiustizie del paese e di collaborare se c'è qualcosa di positivo che la maggioranza propone per la crescita di una comunità e io Mario Perri e Angelo Godino all'epoca consigliere comunale di minoranza abbiamo fatto questo ed è innegabile la cosa triste è che non è possibile far cadere un sindaco dopo otto mesi e voi cittadini dovete aprire gli occhi è vergognoso perché la prima vergogna è nei vostri confronti siete voi che avete eletto l'amministrazione Cardamone e il sindaco si chiama Anna Maria Cardamone si chiama Gigi De Grazia si chiama Nero Perri è il sindaco di decollatura quindi fare cadere un sindaco non stai facendo cadere la persona Anna Maria Cardamone stai facendo cadere una comunità e dopo otto mesi trovate nel primo cittadino che riesce a dare delle risposte a un paese è impossibile un problema elettorale dura cinque anni e in cinque anni deve essere portato a termine finiti i cinque anni voi scegliete se preferite quel progetto politico o se vogliamo andare altrove la maturità del gruppo lista unica è stata la più grande maturità rispetto abbiamo avuto una maturità superiore rispetto ad altri gruppi politici presenti in questa tornata elettorale perché vedete la cosa più bella innanzitutto ed è da esempio per una volta è darsi una stretta di mano come abbiamo fatto io e Mario a zerare a risettare tutto e ripartire da zero perché abitiamo tutti nello stesso paese e allora io insieme a Mario lui mi ha dato una grande mi ha dato un grande aiuto negli otto mesi di minoranza e io questo lo devo dare atto ed è bello poter far vedere alla gente come sia possibile due persone che hanno problemi personali poterli chiarire tranquillamente perché abitiamo tutti nello stesso paese certo non ci stiamo tutti simpatici però se vuoi fare politica se vuoi dare del tuo per il bene del paese devi chiarire alcune situazioni e bisogna chiarirle innanzitutto per non stare bene proprio successivamente per lo stare bene di tutti quindi io dico grazie a Mario e sono felice di aver fatto la pace con lui e di aver potuto iniziare dall'inizio insieme ad Antonio e lui nel testimone un percorso di crescita mio in assoluto ma ho apprezzato tanto un percorso di crescita anche da parte di Mario perché noi vedete non siamo mai andati a imporre la candidatura di Gigi De Grazia o di Mario Perri a sindaco e alle altre liste assolutamente no noi abbiamo posto un punto alle altre liste ed è stato abbastanza semplice il punto che abbiamo posto ci dobbiamo ripresentare a una comunità che ci deve ascoltare due anni fa ci siamo presentati a voi e abbiamo portato avanti i progetti che volevamo in caso di Vittoria fare emergere in questo paese con una caduta così consentitevi il termine triste per decollatura sarebbe stato opportuno cercare di compattare di unificare innanzitutto per voi per il rispetto che noi dobbiamo avere verso di voi perché ripresentarsi di nuovo dopo due anni con quasi 50 candidati compresi i sindaci è una cosa veramente triste perché voi non potrete mai esprimere la maggioranza a decollatura e vi dovete sentire presi in giro perché è una presa in giro e allora io capisco che il cittadino medico-legole-dolese che dice io sono stanco di votare perché non è possibile che ogni volta che si voti in questo paese si rischia un commissariamento il commissario non fa bene ad un paese e io ho pensato e ho pensato sin dall'inizio che la guerra consentitemi il termine una metafora lo metto virgolettato oggi noi non la dovevamo fare a noi stessi ma dovevamo farla con gli altri paesi perché gli altri paesi hanno delle amministrazioni che buone o cattive lavorano per la crescita dei propri territori e come vi ho detto prima Mario sul fatto del Gall decollatura rimane sempre indietro perché essendo commissariata non ha potere di fare niente e questo commissariamento questo commissariamento ingiusto perché l'amministrazione che a Damone non aveva fatto del male stava solo cercando di iniziare a lavorare e ve lo dice uno che era in minoranza che ha fatto minoranza che sia opposto che ha una perela penale per difendere le ingiustizie che ci sono state in questo paese Mario mi ha aiutato vinceremo anche queste questa amministrazione comunale cade per colpa della maggioranza stessa perché io mi auguro che se dovessimo vincere come credo andrà così perché noi in questo momento colgo l'occasione per fare l'in bocca al lupo a tutti i candidati vedo Mario Tomaino quindi faccio l'in bocca al lupo che non ho fatto prima ai candidati delle altre liste in questo momento la nostra lista il nostro progetto politico è quello più serio e esatto perché noi siamo un gruppo compatto di amici oggi candidati nella stessa lista insieme all'appoggio alla capacità tecnica che ha Mario io credo che la fantasia che abbiamo noi innegabile e sfido chiunque a Decollatura a dire il contrario e la tecnica amministrativa che ha Mario questo paese noi lo facciamo ripartire perché Decollatura non ha bisogno di rinascere è già nato Decollatura ha bisogno di ripartire e noi questo ve lo possiamo tranquillamente assicurare vorremmo anche mi prima da sottolineare tornando al discorso di prima che vorrei che voi candidati nel momento in cui vinceremo le elezioni siate sempre compatti con la maggioranza o almeno se se mai dovesse accadere che qualcuno di voi avrà problemi io credo a chiunque di voi di dimettersi e lasciare il posto all'altro perché siamo una squadra non dobbiamo fare come chi si è cambiato come una rega camone e la ricattata uso il termine ricattata senza metafelo senza virgolettato non mi ne prega niente la ricattata per interessi personali quando potrà tranquillamente se non gli stanno avendo il sindaco dimettersi e andiamo a scalare a chi tocca questa è una logica di squadra quella è una logica di ricatto ricatto che sicuramente con determinate persone che ovviamente io le capisco anche perché sarebbe stato inopportuno vederle candidate in liste a questa tornata elettorale perché credo che il decollatore Samedio non avrebbe preso bene a guardare le facce che hanno fatto cadere un sindaco dopo 8 mesi le stesse facce che qualche mese prima erano in portamagna scusatevi il termine in campagna elettorale a fianco dello stesso sindaco allora questa è la prima cosa che voglio sottolineare la compartezza del gruppo noi l'abbiamo le capacità noi ce le abbiamo e le mettiamo in pratica e lo sapete benissimo perché abbiamo una persona che al comune siamo sempre stati opposti ma non si può è innegabile che se una persona come Mario prende il microfono e parla di un format di un evento come la fiera della montagna ma è ovvio che lo può fare solo lui ed è normale che in un momento in caso di vittoria la fiera ritornerà a debolatura ma attenzione non è fare feste perché io voglio specificare una cosa perché c'è l'altra volta sono stato vittima di questo fa feste la festa è una cosa io faccio eventi che è diverso la festa finita inizia la serata finisce e è finita l'evento porta qualcosa l'evento porta turismo il turismo porta economia l'economia porta lavoro e decollatura va avanti invece così siamo rimasti quattro gatti e non gira neanche più l'economia quindi gli eventi non sono fondamentali sono indispensabili e gli eventi perdonate con tutto il rispetto dell'altra lista seri eventi che facciano girare l'economia per il paese li possiamo proporre solo noi siamo solo noi con una capacità tecnica la possiamo proporre solo noi perché abbiamo una persona che ha fatto il sindaco e con grande umiltà oggi si è candidato da consigliere in lista ebbene io mi ricordo solo Mario Caligiulli che ha fatto una cosa del genere ma con una lista di imprenditori noi non abbiamo imprenditori ma poi non siamo siamo un po' imprenditori diversi non so più più alla mano ok e quindi è un bellissimo gesto quello che hai fatto tu nei miei confronti e nei confronti di tutti ma io te lo voglio dire pubblicamente per questo sono convinto che la gente capirà e non andrà al ritroso perché noi vi abbiamo spiegato ve l'ha spiegato Mario ve l'ha spiegato Ezio e ve lo sto spiegando io quindi mi auguro che nei comizi non si ritorni a parlare di questo noi abbiamo spiegato la stretta di mano l'unione per il bene del nostro paese e voi questa cosa la dovete apprezzare perché se non si inizia a risanare i problemi personali in questo paese non ci saluteremo più nessuno ragazzi siamo rimasti pochi e quindi dobbiamo andare d'accordo per quello che si può ma dobbiamo andare d'accordo soprattutto chi decide di candidarsi perché altrimenti ci facevano la guerra dei poveri e non andremo mai avanti e sarà un continuo commissariamento a decollatura io vorrei dire tanti di quelle cose che lo evito perché mi sono ripromesso Mario ha messo la colomba della pace e poi ho promesso a tutti i candidati di fare una campagna elettorale pulita evitando le schifezze scusate il termine delle due anni fa ma dicendole le cose perché poi negli anni uno matura ha più responsabilità nel poter parlare nel dire le cose in modo diverso ma che colpiscano ugualmente noi siamo stati a fare minoranza e abbiamo cercato sino all'ultimo di opporci alla caduta del comune di decollatura nonostante Mario aveva subito un'ingiustizia pagando 5.000 euro se non sbaglio una grande ingiustizia che lui in silenzio ha compiuto ha pagato e ha risanato e noi in quel consiglio io e Angelo abbiamo votato per farti pagare attenzione ve lo dico prima io prima che dai cominci dicano ma Gigi e Angelo però noi abbiamo alzato la mano e ti abbiamo fatto cacciare questi 5.000 euro anche noi e quindi voi notatele queste cose però noi nel corso dell'opposizione ecco dove io mi sono reso conto della esperienza e maturità che ha avuto Mario nei miei confronti non ha mai avuto il cosiddetto dente avvelenato nei miei riguardi ma pensi mi ha sostenuto e mi ha aiutato e io questo devo esserne ne sono ne sono davvero onorato perché se oggi sono qua non volendomi candidare a sindaco ma ci sono mi candido a sindaco e vinciamo le elezioni ovviamente però in quelle occasioni io ho apprezzato tantissimo il sostegno che mi ha dato e allora lì abbiamo iniziato a creare una compattezza in opposizione che Angelo sa benissimo e che quasi era diventata una maggioranza ma sempre rimanendo in minoranza e voglio smentire anche ne approfitto perché altrimenti uscirà fuori in campagna elettorale il così fatto di tempo addietro che i signori Angelo e Mario si erano venduti assolutamente Angelo e Mario hanno cercato una sera di evitare un commissariamento nel comune di decollatura senza promesse ma chiedendo una cosa che forse molta gente ha decollatura vuole ma non per attacchi personali ma perché un grande merito che ha il comune di decollatura è avere dei dipendenti comunali perfetti il problema è che delle volte c'è solo chi comanda c'è una scala proprio di decollatura abbiamo chi comanda e tutti i succubi allora questi dipendenti comunali sono la forza del comune di decollatura e devono essere trattati tutti allo stesso modo non ci devono essere priorità o persone che comandano più un sindaco o persone che comandano tanto un commissario questa cosa deve finire altrimenti non andiamo a volare evitiamo le elezioni e diamo la faccia a chi comanda e facciamo prima e ci evitiamo questo mese di guerre inutili noi abbiamo fatto opposizione abbiamo pensato di non far cadere la maggioranza e voi dovete questo su questo al punto dovete essere fieri di aver avuto in minoranza tre persone che signor l'ultimo dico tre perché non posso dire quattro perché la quarta era da dicembre che voleva cadere il comune quando cade il comune il comune di decollatura non cade il sindaco non cade il sindaco Mario Perri non cade il sindaco Gigi De Grazia cade un comune e l'ho già ripetuto e lo continuo a richiedere perché dobbiamo evitare che questa gente ritorni vinca venga qui e dopo sei mesi abbiamo il nostro commissario questo lo dobbiamo evitare perché i candidati alla nostra vista che oggi vi leggerò tra pochissimo sono persone forti perché perché ci sono candidate con un attetto male di propria spontanea volontà addirittura Simone e Andrea hanno vinto un ricorso tar pagandolo e allora noi abbiamo deciso quando è saltato purtroppo l'unione completa con altre voze politiche però apro parentesi si è creato un bellissimo rapporto costruttivo abbiamo venuto che all'interno della nostra vista non ci fossero persone candidati deboli i candidati deboli non sono i candidati deboli di voti ma sono i candidati terzi di persone deboli che non potendosi candidare candidano qualcuno al posto loro noi questi non li abbiamo da noi c'è gente che si è voluta candidare e non è portata da nessuno da noi c'è gente che si è voluta candidare a cui non è stato provesto nessun posto di lavoro da noi c'è gente che non è sostenuta da altre forze debolaturese da noi ci sono ragazzi che sono scesi in campo ragazzi che lavorano tutti ed è meglio se non vi vedete in giro che per questi ragazzi lavorano anche quindi potete anche capire se dovessimo vincere queste gente che si rimbocca le maniche e non parla di quei fatti e queste persone unite all'esperienza di Mario unita alla consulta degli ex amministratori degli ex sindaci che spero con tutto il cuore nel momento in cui vinceremo si crei subito e ci sia l'appoggio e il sostegno loro e allora questo paese lo facciamo ripartire non rinascere e lo facciamo ripartire dai bigliori dei modi lo facciamo ripartire dando spazio ai giovani evitando speriamo che molti giovani se ne valano ma che rimangano qui facendo girare l'economia facendo lavorare le attività cosa molto importante perché Debellatura per chi non se ne fosse accorto è un paese con tante attività commerciali e chi amministra ha il dovere di tutelare chi decide di investire a Debellatura allora non voglio essere troppo lungo ok perché domani sera avremo il comizio quindi alle ore 19 in piazza avremo il comizio benvito alle ore 18 c'è quello di Mario Tomaino e alle 19 in piazza c'è il nostro seguiteci io vi presento i nostri candidati in lista e poi concludo con due parole e vorrei che finisse poi il tutto Mario quindi ti ripasserò dopo il microfono allora candidati apriamo la lettera di Geroni che legge da Stefania leggo i candidati e ti passo il microfono candidati al Consiglio Comunale Berri Mario Anadia Antonio Bonacci Leggi Ciconte Angela Dallo Angelo Nero Giovanni Pascusi Giuseppe questo è Giosi questo è Giosi non la consiglio scrivete Giuseppe quando lo vedate Romano Francesca Domenica Sirian Di Stefania Romano Maria Francesca Marunda Simone Cerra Andrea questa sarà la squadra che vi farà tornare l'orgoglio di essere decollaturesi che lentamente negli anni è un po' andato a mancare Gigi mi dai ragione vedo che hanno inci allora vi passo la parola a Stefania per una lettera di Giovanni e poi conclude Mario e qui aspettiamo voi domande al comizio Buonasera Buonasera e grazie a tutti voi per essere intervenuti e averci onorato con la vostra presenza purtroppo a caso di impegni di lavoro che mi tengono 1200 chilometri da decollatura non mi è stato possibile essere presente ma con il cuore sono a fianco alla mia squadra e allora presto la mia voce per leggere poche righe che ho scritto per spiegare i motivi che hanno spinto a mettermi in gioco dovrei iniziare con il presentarmi dire chi sono e parlare di me la fortuna dei piccoli paesi come il nostro però è anche quella di conoscersi tutti per cui in questo passaggio sono molto vantaggiato ho sempre cercato di conoscere approcciarmi e ristaurare rapporti con più persone possibile fermamente convinto del fatto che si abbia sempre qualcosa da imparare da chiunque ho fatto per diversi anni parte della scuola di pallavolo organizzato tornei estivi supportato la prologo nella realizzazione della scuola e delle attività estive da qualche anno mi trovo a Venezia dove lavoro come insegnante e per quanto questa esperienza mi stia arricchendo e facendo crescere e io mi trovi in una delle città più belle d'Italia non c'è giorno in cui non penso il mio paese quello che mi ha visto nascere crescere divertirmi diventare un uomo un ingegnere e soprattutto quello che spero potrà fare lo stesso un giorno con i miei figli avete presente quei discorsi che si fanno quando si è piccoli del tipo ma come ti vedi tra vent'anni la mia risposta è sempre stata lavoravo in Calabria e viaggerò da regolatura per raggiungere il mio posto di lavoro ed anche oggi questo è uno dei miei sogni più grandi riuscire a tornare e stabilirmi qui impegnarmi per farlo risplendere e farlo ritornare quello di qualche anno fa di cui tutti parlavano bene una sorta di isola felice certo potrà sembrare un discorso un po' utopico ma qualcuno diceva se puoi sognarlo puoi farlo ed allora voglio crederci e soprattutto impegnarmi e provarci affinché tutto ciò possa concretizzarsi è la prima volta che mi espongo politicamente in prima persona e forse a detta di molti l'ho fatta in un momento poco opportuno vista la situazione economica generale e in particolare del paese di regolatura ma a me piacciono le sfide mi danno entusiasmo e come ogni cosa di cui mi prendo carico ci metto la faccia sintomo di rispetto e onestà avrei potuto stare al di fuori dare il mio voto a questa squadra ma poi mi sono convinto che arrivo del momento giusto di una mia partecipazione attiva e entrare in campo perché stanco di stare in panchina perché solo agendo in prima persona si può sperare nella realizzazione di un cambiamento ci tengo a ringraziare anche alcuni degli altri candidati a sindaco che mi hanno proposto di schierarmi con loro e per i quali nutro tanta stima ma la scelta di partecipare come candidato in questa lista non è mai stata in discussione sono legata a Gigi da un'amicizia ma non è stato questo il motivo per cui ho deciso di sostenerlo perché amici lo eravamo anche nelle precedenti elezioni quando invece il mio appoggio è andata ad un'altra lista penso però che questa volta sia stato fatto un buon mix Gigi è un ragazzo con tante idee che ci mette sempre la faccia e tanta buona volontà nelle cose qualcuno gli attribuisce la mancanza di esperienza ma l'esperienza la si fa sul campo imparando eventualmente anche sbagliando e riuscendo a trovare la soluzione e il rimedio accanto a Gigi e a noi tutti però c'è Mario che di esperienza e competenza ne ha da vendere ha sempre detto che qualora avessi deciso di entrare in questo mondo di cui conosco ancora poco allora avrei voluto fare con qualcuno di competente qualcuno che avrebbe saputo spiegarmi indirizzarmi e ho sempre visto in Mario questa figura per cui non ho esitato mai un secondo a decidere con chi schierarmi sono inoltre felicissimo del loro avvicinamento che non vedo come mancanza di coerenza ma come segno di intelligenza farsi la guerra e farsene in un paese di 3000 abitanti non porto a niente se non a creare spaccature inutili è lasciare le cose in una situazione di stallo e degrado unirsi vuol dire unire il buono che c'è in due persone le loro idee i loro obiettivi stimo ogni singolo candidato nella mia lista perché penso che ognuno di loro possa dare un contributo positivo qualora dovessimo essere noi a vincere voglio inoltre togliermi un piccolo sassolino vorrei precisare che la mia candidatura non è assolutamente legata ad un'esigenza di avvicinamento scolastico nonostante come detto questo sarebbe uno dei miei desideri più grandi ma purtroppo faccio ancora parte del mondo dei precari per cui essere eletto non mi permetterebbe di ottenere nessun vantaggio da questo punto di vista concludo facendo dei semplici ringraziamenti ringrazio Gigi per avermi voluto fortemente con lui e avermi dimostrato tanta stima ringrazio Mario per essersi messo in gioco accanto a noi più giovani e per quello che sicuramente potrà e saprà insegnarci ringrazio tutti i candidati perché siamo la squadra migliore e sono felice di condividere questa esperienza con tutti loro un ringraziamento particolare ad Angela perché abbiamo da sempre condiviso le lezioni comunali insieme e della stessa parte perché è una persona splendida preparata propositiva che dà un tocco in più a quello che di bello già siamo ringrazio la mia famiglia intera per aver appoggiato questa mia scelta mio papà per avermi trasmesso la sua passione per questa cosa e ringrazio tutti voi che deciderete di sostenermi in questo percorso in cui ero il massimo come ho sempre fatto in tutte le cose che ho affrontato grazie per avermi ascoltato Giovanni Nero devo dire che dopo aver ascoltato le parole che mi hanno rebuto e anche le parole di Giovanni sono commoste per la prima volta dopo tanti anni e vi ringrazio a tutti e vi dico di sostenere questi giovani perché merita meritano anche per un modo affettuoso come borgo non le cose e per un lavoro saggezza anche se sono giovani vi ringrazio a tutti appuntamento domani sera e vi ringrazio a tutti